Tre punti importantissimi, questo sì, però non è finita, perché hanno vinto tutte, perciò testa bassa e pensiamo a martedì con Cesena, non possiamo muovere niente in questo momento. Sono molto contento della prestazione, ovviamente, del risultato, di come lo abbiamo ottenuto, questo sì, però non possiamo colare sogni perché è ancora lunga. Penso che la media salvezza si sia alzata, perciò è una battaglia fino alla fine. Oggi c'è stata una vittoria importante, strameritata, contro una squadra pillone che nell'ultimo turno era andata a vincere a Perugia e che nelle quattro partite precedenti aveva conquistato dieci punti. Ternana che non ha mai tirato in porta e Pescara che invece sul finire di gara ha quasi voluto risparmiare Rosso Verdi. No, noi abbiamo fatto bene nel giro palla, mi ha fatto molto bene anche nel primo tempo nell'aggressione, non gli abbiamo fatti ragionare e questo è stato molto importante. Poi bene la linea difensiva che chiudeva bene e nello stesso tempo accorceva bene gli spazi, perciò un lavoro di squadra che è venuto fuori bene. Per la prima volta devo dire che non abbiamo subito a gol e questo è già un fatto importante. Dovevo fare due considerazioni. La prima prendo spunto da quanto diceva lei poco fa sulla linea difensiva. Ieri parlavamo anche un po' con Pesoli e ci ha spiegato perché forse Graviglione era ideale oggi per tenere la corsa e la rapidità di carretta. La scelta è vincente. Le statistiche poi dicono che da quando c'è Piloni in panchina il Pescara produce 10-12 tiri in porta al match. Sì, è vero. Questa è una squadra che ha il suo DNA, la fase offensiva e credo che questa sia una grande cosa. È chiaro che bisogna migliorare sotto l'aspetto difensivo. Piano piano stiamo facendo dei progressi. Anche nella gestione della partita oggi è stata fatta nel miglior modo possibile rispetto a domenica contro lo Spezia. Devo dire che abbiamo tenuto bene il possesso palla. Le abbiamo sfiancate da quel punto di vista. Devo dire che è stata una prestazione ottimale. Perciò bene, ma pensiamo alla prossima. Lei pensa alla gara di Cesena giustamente perché si tornerà in campo il primo maggio. Però con Piloni in panchina si sta vedendo un altro Pescara. Sul piano dei risultati e sul piano del gioco. Inutile girarci attorno. Piloni ha firmato il contratto fino al 30 giugno, ma Piloni pensa di avere la possibilità e i meriti di poter guidare il Pescara anche nella prossima stagione in Serie B. Io adesso sono concentrato sull'obiettivo. Devo raggiungere assolutamente l'obiettivo della salvezza il prima possibile perché per il Pescara, per i tifosi, per la società è un patrimonio. Perciò questo è il valore assoluto, al di là dei discorsi personali che valgono fino a un certo punto. Per me è importante che Pescara si salvi. Poi se le nostre strade continueranno assieme, io sto molto bene a Pescara, però questo è un discorso che adesso non lascia il tempo che trovo. L'importante è raggiungere l'obiettivo, che è una cosa importantissima per tutti noi. Voglio usare un termine forte, Pilon. Oggi lo possiamo dire, a parte forse i primi dieci minuti dove la Ternana voleva fare la partita, per 80 minuti il Pescara è stato dominante. Le piace questa termine? Mi piace come abbiamo gestito la partita, come abbiamo giocato, come abbiamo preparato. Stiamo progredendo da quel punto di vista, anche sul piano difensivo, molto meglio rispetto alle altre partite. Pian piano le cose si stanno aggiustando, però ripeto, non mi culo. Io sono un uomo di calcio, un uomo di sport e so come va questo mondo qui, perciò io sto già pensando alla prossima. Come ho perso a Vercelli non mi sono fasciato la testa lì, ho cominciato a lavorare subito sulla partita di Spezia. Adesso abbiamo vinto, ma prepariamo bene la partita di martedì. Mister, due considerazioni. La prima sul piano atletico, oggi abbiamo visto un grande Pescara, probabilmente anche merito della preparazione di Zeman. E poi le chiedo le condizioni di Balzano, che abbiamo visto molto sofferente. Sì, Balzano purtroppo si è stirato, non so i tempi. Una grande perdita perché stava facendo benissimo, ero molto contento di lui. Purtroppo abbiamo perso un giocatore importante, anche di personalità e di esperienza. Mi dispiace moltissimo di questo. Poi per quanto riguarda la preparazione, è vero, Zeman lo conosciamo tutti, sa come lavora fisicamente le squadre, stanno sempre bene. Perciò è anche merito suo, se la squadra corre in questo momento, perciò chiaramente non posso togliere solitamente anche i meriti del maestro. Perché per me è sempre stato un maestro e sarà sempre un maestro per me. Però il suo Pescara sta costruendo più palle-golle di Zeman, questo è un dato di fatto? Ma questo sono bravi ragazzi, devo dire che sono molto applicati. Vedo che c'è continuità di lavoro, questo è importante. Devono tutti capire che si deve giocare per la squadra, non per se stessi ma uno per l'altro, perché questo deve essere il nostro motto. Sono arrivati tanti messaggi dai nostri telespettatori, perché Pillon è stato fermo negli ultimi mesi, perché Pillon non è arrivato prima. Questa seconda domanda, lei non può rispondere, ma alla prima, perché Pillon era fuori dal calcio giocato per così tanto tempo? E' stato un mondo particolare questo, nel senso che... E non ha procuratori? No, non c'è nessuno, nel senso che... Io sono sempre dato e mi hanno chiamato, ho avuto la fortuna... Ha chiamato Repetto, giusto? Sì, sono 25 anni che alleno, ho sempre fatto ogni anno, anche se per brevi termini, mi hanno sempre chiamato. Però io vado tutto sul mio lavoro, su quello che costruisco, su quello che faccio. Purtroppo al giorno d'oggi non guardano molto quello che uno fa, guardano altre cose, ma io sono così, sono fatto così e continuerò ad essere così.